Nuovo colpo al caporalatio in Veneto. Immigrati costretti a lavorare nel mondo agricolo in regime di sfruttamento. Per lo più si tratta di marocchini che erano costretti a vivere in condizioni di estremo disagio. Alloggiati con sistemazioni di fortuna, prive di riscaldamento ed energia. Venivano svegliati con le prime luci dell'alba e accompagnati con auto fatiscenti nelle aziende agricole in cui prestavano la propria opera sotto stretta sorveglianza. percepivano un compenso ben al di sotto del dichiarato. Si è conclusa così l'operazione polvere di stelle condotta dai carabinieri del gruppo tutela di lavoro di Venezia e dal nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Vicenza con l'esecuzione della misura di custodia cautelare ai domiciliari eseguita nei confronti di un cittadino di nazionalità marocchina 27enne rientrato in Italia presso l'aeroporto di Orio Alserio a Bergamo. Sono complessivamente 5 le misure custodiali eseguite da novembre 2020. Tra loro anche una donna di nazionalità italiana collaboratrice di uno studio di commercialista che svolgeva le funzioni di consulente del lavoro operando per consentire alla cooperativa di evadere gli oneri contributivi da versare in favore dei dipendenti.